Una domenica di solidarietà con il sole a contatto con la natura, anche non allenati grazie alle bici assistite. Si è svolta lungo il percorso delle acque a Pievetorina e grazie al progetto Centro, insieme per le terre del sisma. Abbiamo programmato un evento così per cercare di valorizzare questo percorso veramente molto bello che arriva fino al paesino di fiume e continua poi, e un domani speriamo di arrivare anche fino a Polfiorito. Dovremmo essere una trentina di persone, tra bambini, ragazzi e qualcuno col carellino, percorreremo questa ciclabile per poi visitare anche una parte di quello che è rimasto di Pievetorina. È un incontro che abbiamo fatto per far rivivere ancora e cercare di ricordarci che questa località è stata abbastanza mattoriata da quello che è successo in passato. Lo so che è brutto parlarne sempre, però più la rendiamo viva con le nostre attività, con le attività con la bici, che è un po' il mio lavoro da sempre, questa è secondo me la cosa più importante. Il bello è che la gente aderisce sempre molto a queste iniziative, quindi far conoscere questo bellissimo percorso che è nato solo pochissimi anni fa, secondo me è una cosa importante per cercare di far vivere queste località. Poi ci fermeremo a mangiare qualcosa e assaporare qualche prodotto tipico nell'azienda Fronzi. Visiteremo il mulino di fiume, quindi è veramente un'iniziativa molto carina. Lo scopo è quello di promuovere i territori attraverso le associazioni del luogo, quindi coinvolgendo anche il comune Pietorina e le altre associazioni del territorio, abbiamo proposto a persone che vengono da fuori questi territori l'opportunità di conoscere, di scoprire le zone del terremoto. Sono state colpite dal sisma e il CSV, in collaborazione anche con l'Avis, vuole aiutare a conoscere, a promuovere queste zone che ne hanno bisogno e che vogliamo aiutare. Oggi siamo qui con l'Avis, ma il progetto vede il CSV di Ancona, il centro servizi del volontariato regionale, come capofila, però coinvolge sia Avis, Acli, Arci, Unicam per la formazione e tantissime altre associazioni e realtà. Il progetto vuole proprio creare nuove realtà aggregative, nuove associazioni in queste zone colpite duramente dal sisma, che hanno bisogno di una spinta e di un aiuto per essere di nuovo al centro delle nostre attenzioni e delle nostre priorità. L'Avis di Pieve Torina è stata subito pronta a questo richiamo, siccome sono molto impegnato in altre cose, l'ho saputo ultimamente, però ho fatto del tutto per essere presente alla partenza, perché non posso pedalare. Sicuramente scopriranno dei bei posti, il percorso delle acque mi hanno detto che è molto carino, io purtroppo ancora non l'ho fatto, l'ho fatto solo in parte, però è molto suggestivo e quindi sicuramente torneranno, torneranno perché è bello, soprattutto anche in inverno, perché ci sono cascate. Sì, grazie dell'invito. Sì, facciamo rete e Avis, Avis cerca sempre di fare reti, di stare in collaborazione, di condividere le varie iniziative, di partecipare tutti insieme per un bene comune che è quello dell'aiuto reciproco e della solidarietà. Queste iniziative, dove vedono al centro attività sportive, sono dei momenti molto importanti di crescita, ma soprattutto perché vedono l'adozione di un corretto stile di vita, perché l'adozione di un corretto stile di vita comporta che un soggetto ha cura di sé e è un potenziale donatore. Le bellezze paesaggistiche del territorio marchigiano, del territorio devastato dagli eventi sismici, devono essere il momento trainante per riuscire a far ricostruire questi territori. Oggi la ricostruzione è ferma, il super bonus non viene erogato ai cittadini, c'è un consumo esponenziale di farmaci dovuto alle depressioni e la popolazione è veramente ridotta allo stremo. Dopo sei anni all'interno di strutture emergenziali credo che queste persone meritino rispetto e soprattutto non deve essere devastata la dignità di un popolo, dell'altro maceratese, che rappresenta un momento dell'Italia vera, rappresenta ancora quelle radici, quelle tradizioni che non debbono essere disperse. Allora io ho chiesto a tutti coloro che vengono qui a visitare il percorso delle acque, a queste iniziative, all'Avis, di aiutarci nel non farci dimenticare perché in questo momento siamo veramente in difficoltà.